A Giorre in questi giorni il problema rifiuti sembra essere più che mai attuale e dato che i problemi sembrano non arrivare mai da soli, oltre ai disagi nella raccolta rifiuti provocati nei giorni scorsi dalla protesta dei lavoratori del servizio di igiene urbana che hanno portato ad un accumulo di rifiuti nelle diverse vie cittadine, in alcune zone del centro storico giarrese continua e si estende il problema delle microdiscariche a cielo aperto. Non è chiaro se si tratti di un fatto di congenita inciviltà o di non chiarezza sul conferimento degli ingombranti in particolare, il risultato però resta invariato, ecco allora che soprattutto attraverso i social network i cittadini segnalano i disagi che si ritorcono solo contro noi stessi. Fra le varie segnalazioni le più recenti riguardano oltre alla costante incuria che regna in varie aiuole strade come quella che costeggia il plesso scolastico Monsignor Alessi o lo spazio verde attorno alla scuola dell'infanzia Carlo Collodi di via Siracusa, c'è anche quella di una microdiscarica in pieno centro alle spalle di Viale Don Minzoni all'angolo fra via Minghetti e via Giammona. Qui come si vede dalle immagini è possibile trovare rifiuti di ogni sorta, da sacchi di immondizia, a sanitari, a materiale ed ile di scarto ed ingombranti di ogni tipo. Una passante deposita addirittura una busta con materiali di scarto proprio sotto i nostri occhi, come fosse normale che le strade diventino luogo di depositi rifiuti in pieno giorno. Uno dei motivi potrebbe essere l'eliminazione dei cassonetti che qualche tempo fa erano collocati proprio dove oggi si scorge, la montagna di rifiuti. Fatto sta che la situazione è insostenibile non solo per una questione di decoro urbano in una via centrale di Giarre, ma anche per un fatto di igiene che diventa sempre più precario. L'aria diventa sempre più irrespirabile in prossimità delle microdiscariche, ancora di più con le temperature che, annunciando la stagione estiva, si fanno più calde. I cittadini giarresi chiedono un intervento decisivo per l'eliminazione delle microdiscariche, fenomeno che è prima ancora che un fatto di decoro e pulizia, una questione culturale che richiede una vera e propria rieducazione civica.